Sing Ring debutta nel mercato dei video online con Sing Ring Video. Di cosa si tratta? Che iniziativa è? Come si inserisce nel business model di Sing Ring? Sì, allora, Sing Ring Video è di fatto un ampliamento della nostra offerta che passa dalle lyrics karaoke ai video musicali ufficiali. L'idea di Sing Ring è quella di andare a valorizzare tutti i siti che parlano di musica facendogli embeddare il nostro player che crea delle opportunità per le loro concessionarie e per l'editore stesso. Infatti avendo dei contenuti premium si possono poi implementare pre-roll, mid o post-roll. Per cui diciamo che l'idea di Sing Ring è quella di andare a cercare là dove c'è già dell'audience valorizzandola con dei contenuti video che, come si sa, sono le star del mercato pubblicitario. Tutto ciò in un ambiente e comunque in un network che è certificato che valorizzi il valore stesso della pubblicità e che abbia dei ritorni di investimento molto alti per gli investitori stessi. Ecco, nel dettaglio come si articola la presenza pubblicitaria sul vostro network? Sì, noi embeddiamo il nostro player che appunto con la nostra tecnologia cerca una coerenza con l'articolo stesso o con la lyric che pubblichiamo noi e di solito implementiamo un pre-roll all'inizio del nostro contenuto video. Questo pre-roll viene venduto dalla concessionaria dell'editore stesso e in questo modo noi andiamo a remunerare una filiera e soprattutto andiamo anche a premiare le concessionarie stesse del network pubblicitario. Quali editori hanno già aderito e avete in programma di stringere ulteriori partnership? Sì, assolutamente. Stiamo crescendo a ritmo di uno o due partner al mese. In questo momento hanno aderito Leonardo a DV, per cui Tribù, Virgilio, Matrix con New Media la sua concessionaria. Siamo sul gruppo editoriale Espresso con Radio DJ, a breve probabilmente andremo anche su altre property del gruppo editoriale Espresso. Siamo anche su siti piccoli come ad esempio Air Dave, piccoli che però nel mondo della musica sono un punto di riferimento. Air Dave più o meno colleziona circa 4 milioni di view mese. A breve saremo anche nel gruppo Finelco, sul network del gruppo Finelco, per cui 105, Radio Monte Carlo e Virgin e probabilmente saremo anche su altre due o tre property con cui stiamo negoziando in questo momento, che non posso ancora anticiparvi ma a breve le renderò pubbliche. Facciamo un po' il punto. A quanto ammontano attualmente gli utenti del network e che obiettivi vi siete dati? Sì, attualmente abbiamo più o meno 4,6 milioni di utenti unici. Collezioniamo circa 15 milioni di view mese e contiamo di fare entro la fine di questo mese circa 8 milioni di stream video. Noi in realtà per quanto riguarda Singring puntiamo a legalizzare un 70-80% del mercato delle lyrics, superare i 6 milioni di utenti unici e arrivare almeno a 18 milioni di view mese. E sul fronte dei social network invece state pensando a qualche iniziativa? Sì, assolutamente. Stiamo sviluppando un'applicazione che sarà innovativa e che punta a valorizzare le fanpage. Per cui la missione di Singring è veramente andare a valorizzare dei contenuti editoriali che in questo momento non hanno il giusto valore. La nostra applicazione va anche quella in questa direzione. Grazie.